L'esigenza di una forte trasformazione di tutto il sistema alimentare è diventata indilazionabile. La centralità di questo sistema esige delle riflessioni, dei mutamenti profondi per essere adeguati alle sfide che abbiamo dinanzi, che sono sfide riguardanti il sistema ambientale, la vita delle nostre comunità e in generale anche la salvaguardia rispetto a una situazione degli ecosistemi sempre più compromessa. In questo contesto il ruolo dell'alimentazione sia dal punto di vista produttivo che distributivo di trasformazione è un ruolo determinante e approfittare di un summit internazionale per affrontare queste tematiche è senza dubbio un elemento virtuoso. Tuttavia se questo appuntamento non ha la capacità di mettere in luce alcune priorità che sono assolutamente fondamentali, rischia di essere un appuntamento non sufficientemente utile per la trasformazione che noi tutti auspichiamo. Allora è importante mettere dei punti fermi perché questo appuntamento diventi positivo e comunque perché la politica di cambio del sistema alimentare sia efficace. Voglio sottolineare in modo particolare quattro punti che a mio modo di vedere non possono più essere rimandati. Il primo uscire da imperativi che ci impone è un'economia che a mio modo di vedere è profondamente lesiva della qualità dell'ambiente e dei rapporti sociali. Un'economia basata principalmente sull'imperativo della crescita, del profitto e del potere del capitale finanziario. Affermare che debba esistere come stella polare, come punto di riferimento l'interesse pubblico, quindi la priorità dei beni comuni e dei beni relazionali è una condizione preliminare per affrontare queste sfide. Non possiamo vincere queste sfide se non c'è un cambio radicale dei paradigmi economici e finanziari che finora ci hanno portato a questo stato di cose. Il secondo punto è la riaffermazione, non solo affermazione di principio, ma di sostanza della centralità dei titolari dei diritti umani. Proprio in questo settore, settore alimentare, siamo in presenza di forme di sfruttamento, addirittura paragonabili a forme di schiavitù, che non sono tollerati nel ventunesimo secolo. Non possono essere tollerati nel ventunesimo secolo. La centralità dei titolari di diritto è fondamentale per aprire qualsiasi discussione, al punto tale che deve essere sottoscritta da tutti come impegno decisivo per la trasformazione di tutto il sistema. E in questo contesto, titolari di diritto sono senza dubbio le donne, per cui l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne debbano essere affermati in maniera decisa per il ruolo stesso che storicamente le donne hanno avuto e danno nella produzione alimentare, nella garanzia di tutto il sistema alimentare. Ecco, questi due elementi, i diritti umani e l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne debbano essere assolutamente assunti da tutti perché senza questi non c'è possibilità di cambiare alcunché. Per concludere, questa grande sfida si può vincere esclusivamente lasciando spazi di autonomia e di autogoverno a livello locale. A livello locale che si gioca la capacità di incidere sul cambiamento, di rafforzare i legami che noi tutti dobbiamo ospitare verso organizzazioni di base, di volontariato, di persone che dedicano la loro vita perché il sistema alimentare sia in armonia con la natura. A livello locale le politiche possono diventare realtà. Questo non significa non avere una visione globale, non essere, come dire, parte di un progetto generale, ma il progetto generale può solo marciare sulle gambe di milioni di persone che nell'economia locale portano avanti questa trasformazione ambiziosa e utile. Per tutti questi motivi io penso che quello che stanno realizzando i movimenti di base che hanno assunto questo appuntamento, questo contro-summit, è una scelta coraggiosa e utile che non esclude il dialogo, anzi porta avanti il dialogo, ma il dialogo deve essere da parte di tutti e non solo dei soliti privilegiati di un sistema economico finanziario che è responsabile di questo disastro. Il dialogo, la condivisione è un elemento che può realizzare la trasformazione e quelli che sono gli obiettivi che tutti noi dobbiamo perseguire per una salubrità non solo del sistema ambientale, ma anche della giustizia sociale e della convivenza tra i popoli.